Super bonus e sisma bonus, come non perdere l'incentivo in caso di mancata presentazione dell'asseverazione sismica ante operam. Non si tratta di un mero errore di carattere formale, però non tutto è perduto, si può salvare l'incentivo. Ora spesso vengo contattato da persone che hanno presentato delle richieste di accesso all'incentivo statale, quindi Super bonus 110 piuttosto che sisma bonus ordinario, e magari hanno dei dubbi sul fatto che gli possa essere contestato l'incentivo perché hanno dimenticato di presentare qualche documento. Spesso si parla proprio della mancata presentazione dell'asseverazione di rischio sismico, che invece sappiamo essere obbligatorio. Da questo punto di vista, molti mi chiedono, accederò lo stesso all'incentivo, si tratta di un errore puramente formale, una dimenticanza? Ora, da questo punto di vista, è molto importante la risposta che ha fornito ufficialmente il fisco, la risposta 332 del 2023, con cui si è espressa in merito. E affermando che non si tratta di un errore veramente formale, ma di un errore di carattere sostanziale, perché va a pregiudicare la possibilità di esprimersi sulla legittimità dell'incentivo, e quindi rischia di far saltare l'incentivo, o meglio fa saltare l'incentivo, però c'è la possibilità comunque di salvare l'incentivo. Come? Ne voglio parlare in questo video, visto che è un tema molto importante. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimare aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale se vuoi sostenere il mio lavoro online. E nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Ti chiedo adesso di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di che cosa si tratta. La risposta del fisco in particolare ha riguardato il caso in cui venivano eseguiti dei lavori di miglioramento del comportamento sismico di un edificio che era di un immobile che era classificato come C6 e che a seguito di questi interventi di miglioramento sarebbe diventato un immobile di carattere residenziale, quindi cambio di destinazione d'uso. Il problema è stato che nella presentazione della CILAS non è stata allegata né l'asseverazione di rischio sismico ante operam, così come richiesto dalla normativa, né la relazione illustrativa della classificazione sismica. Invece è stata presentata con firma digitale da parte del tecnico rincaricato al genio civile la relazione dovuta al servizio dell'edilizia del comune competente. Quindi il contribuente che diceva si tratta di un mero errore di carattere formale, di una dimenticanza. Allora, da questo punto di vista, quindi il fisco ha risposto, ha risposto affermando che la normativa prevede che quando viene presentata al comune una scia, piuttosto che un permesso di costruire, quindi magari una scia alternativa al permesso di costruire, per interventi di miglioramento sismico delle strutture, è necessario allegare al progetto e quindi alla pratica l'asseverazione di rischio sismico ante operam. Questa non è una cosa facoltativa, è una cosa fondamentale. Ed inoltre si ricorda anche che in merito al super bonus, la circolare 28E del luglio 2022 aveva anche chiarito in modo inequivocabile come per l'accesso all'incentivo del super bonus per interventi di miglioramento sismico è obbligatorio allegare anche l'asseverazione del rischio sismico ante operam. Si tratta di un documento obbligatorio, il famoso allegato B. e la mancata presentazione di questo documento determina una revoca all'accesso all'incentivo fiscale perché non si tratta di un mero errore di carattere formale ma la mancanza di questo documento non consente un controllo preventivo sulla possibilità di accedere all'incentivo stesso. Da questo punto di vista è anche importante sottolineare come non è possibile sanare la mancata presentazione di questa asseverazione attraverso quanto stabilito dal cosiddetto decreto di tregua fiscale quello che è stato stabilito dalla legge di bilancio 2023. Infatti in legge di bilancio la cosiddetta tregua fiscale viene riportato testualmente sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali per cui non è sufficiente il comportamento concludente adottato tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in bonus per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile e deriva l'impossibilità di ricorrere alle disposizioni della tregua fiscale per sanare la violazione in parola. Quindi non si può sanare in questo caso la mancata presentazione dell'asseverazione quindi che cosa succede? Si è perso l'incentivo perché ci si è dimenticati di allegare alla CILAS o al titolo autorizzativo richiesto l'asseverazione ante operam sul rischio sismico? No, no perché si può utilizzare il meccanismo giuridico della remissione in bonus quindi è concessa al contribuente la possibilità di presentare la remissione in bonus in cui viene allegato anche questo documento per sisma bonus e super bonus e super sisma bonus ovviamente questo deve essere presentato in tempo utile cioè entro la prima dichiarazione dei redditi o meglio per essere più precisi entro la prima dichiarazione dei redditi utile cioè quella in cui viene esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante se si è avuto accesso all'incentivo attraverso il meccanismo della cessione del credito sconto in fattura la data utile è la remissione in bonus deve essere presentata prima della comunicazione dell'utilizzo dell'opzione alternativa quindi fondamentalmente nel caso in cui si richiede l'accesso all'incentivo del super bonus per interventi di miglioramento sismico o sisma bonus e si è dimenticati di allegare alla pratica l'asseverazione sismica ante operam che si può comunque accedere all'incentivo attraverso l'utilizzo della remissione in bonus a patto che siano soddisfatti i requisiti di carattere sostanziale per avere accesso all'incentivo bisogna eseguire la comunicazione della remissione in bonus in tempo utile che significa quindi entro la prima dichiarazione utile in cui si porta in detrazione la prima rata dell'incentivo oppure nel caso di cessione del credito prima che viene comunicata all'agenzia dell'entrata della comunicazione dell'utilizzo dell'opzione alternativa e bisogna pagare l'ammenda minima prevista in questi casi che come sapete è di 250 euro quindi questo è quanto si può utilizzare ancora l'incentivo anche in caso di mancata presentazione dell'asseverazione di rischio sismico ante operam attraverso il meccanismo della remissione in bonus questo credo che sia stato un chiarimento molto molto importante da parte del fisco che quindi va a tutelare e a tranquillizzare tutti quei contribuenti che rischiavano o che pensavano di poter perdere l'incentivo per un errore veramente banale la mancata presentazione di questo documento se il video ti è piaciuto o ti è stato utile ti chiedo di mettere un bel mi piace e di condividerlo come detto iscriviti al canale youtube e cliccando sulla campanellina rimane aggiornato sull'uscita dei prossimi video se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale ciao 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 ciao